Un'altra giornata nera sul fronte degli arrivi, su quella che ormai viene definita come la rotta più letale del mondo. Tre i cadaveri recuperati su un gommone soccorso a largo della Libia, con a bordo altre 120 persone che sono state tratte in salvo e adesso dirette verso l'Italia. In totale sono più di 1800 i migranti soccorsi nella sola giornata di oggi. Circa 50 cadaveri sono stati individuati nella stiva di un barcone blu soccorso dalla nave sbedese Poseidon. L'unità, impegnata nei soccorsi di altre 130 persone, è stata subito dirottata dal Centro Nazionale Soccorsi in direzione del barcone a tratto in salvo 439 migranti. I marinai, una volta a bordo, su indicazioni degli stessi migranti, hanno aperto la stiva e hanno visto i circa 50 cadaveri, probabilmente morti per l'esalazione dei motori del barcone. E si fanno sempre più raccapriccianti le testimonianze dei sopravvissuti che raccontano le violenze subite durante il viaggio. Racconti molto simili a quelli già ascoltati dal Tribunale di Catania in seguito alla strage di Ferragosto in cui furono trovati 49 cadaveri intrappolati nella stiva del barcone che li stava trasportando verso l'Italia. 37 di quelle 49 vittime sono state sepolte all'interno del cimitero di Catania, mentre per le altre 12 salme bisognerà attendere il nulla host dell'autorità giudiziaria. Una prassi, quella di chiudere le persone all'interno della stiva, che sta diventando sempre più comune. Secondo i racconti dei testimoni, i migranti sarebbero stati sistemati con la forza sul fondo della barca in base alla loro nazionalità. Ad avere la peggio, bangladesi, pakistani e sud sahariani, mentre sul ponte c'erano soprattutto siriani, libici e magrebini. Il minimo comune denominatore delle testimonianze ascoltate dagli inquirenti è la violenza con la quale si impedisce agli occupanti della stiva di poter uscire da quell'inferno di modossido di carbonio e gas proveniente dagli scarichi del motore. Quando abbiamo capito che potevamo morire soffocati abbiamo sfondato la botola per poter prendere aria e respirare, raccontano alcuni dei 350 migranti sbarcati a Pozzallo e che hanno permesso di individuare i due presunti scafisti fermati dalla squadra mobile della questura su disposizione della procura di Ragusa. In 200 sarebbero stati stipati sul fondo della barca e mentre molti di loro iniziavano a svenire, gli altri forzavano la botola per poter prendere aria. I due scafisti fermati sono un marocchino di 18 anni e un tunisino di 35 che ha ammesso le sue responsabilità e ha confessato agli inquirenti che una volta respinto in Tunisia il suo compenso sarebbe stato di 2.500 dollari mentre la spedizione avrebbe fatto incassare ai trafficanti libici circa 700.000 dollari.